Per un ultimo impegno della stagione regolare per il Teramo che va ad Ancona contro la squadra di Gianluca Colavitto per blindare una salvezza quasi in cassaforte e anche per provare a sognare qualcosa in più. Concentrazione massima, quella che chiede Federico Guidi, che ha visto qualche calo di concentrazione di troppo che lo guiderà nello stilare l'11 di domani sera. È chiaro che l'aspetto mentale, domani chi metterò in campo è perché lo reputo veramente pronto ma dal punto di vista temperamentale, della battaglia, della voglia, perché penso che domani la prestazione deve partire da questo. Un'idea ce l'ho già, ma ieri avevo un'idea che oggi ho completamente stravolto nella rifinitura di oggi. Se domani vedo ciò che ho visto ieri ricambio nuovamente la squadra. Ancora troppo presto per i bilanci, ma manca davvero pochissimo al finire della stagione. Il tecnico conferma qualche piccolo problemino per Rosso in avanti, ma soprattutto vorrà il massimo dell'impegno perché una volta raggiunta la permanenza in Serie C, il Teramo può sperare, chissà, di fare il colpo grosso. La squadra ha alternato cose estremamente positive, qualche errore l'ho visto in settimana, tra l'altro è stato motivo anche della riunione tecnica di oggi, perché forse un po' di tensione si era un po' abbassata, e questo infatti anche in base a coloro che vedrò estremamente concentrati e volitivi io sceglierò la formazione, perché non voglio che si ricada in degli errori che abbiamo commesso e dai quali dobbiamo aver imparato. Per il resto, dal punto di vista fisico, la squadra sta bene. L'unico ieri ha preso un trauma, una distorsione alla caviglia rosso, che lo valuteremo fino a domani. Oggi ha lavorato in maniera differenziata. Per il resto sono tutti recuperati, stanno tutti bene, tranne chiaramente i lungodegenti, mi riferisco a Boa, Cucurullo e Bellucci, che stanno procedendo nei loro percorsi di recupero. Rimaniamo con la concentrazione che la partita di domani è una partita fondamentale. Uno per chiudere definitivamente un obiettivo che è rimasto aperto con un cavillo difficilissimo, però è sempre aperto. Quindi le antenne dobbiamo tenerle sempre ben dritte. E dall'altro vorremmo cercare di regalarci quella che potrebbe essere veramente un'impresa e tutto passa nella partita di domani. Poi domani al 95esimo forse sapremo molto di più e sapremo come dover affrontare anche l'ultima partita, quale possa essere il nostro obiettivo. Quindi domani è a tutti gli effetti la partita, perché può chiudere un capitolo, aprire un altro.